Cinque. Rivediamo un po'. Cominciamo con un po' di pronunce. Facile. Difficile. In centro. Un'arancia. Un'aranciata. Ciao. Un chilo. Il bicchiere. Il sacchetto. Un negozio. Un albergo. Una guida. Prego. Oggi. Buongiorno. Buongiorno. Un viaggio. Giugno. Un albergo. Due alberghi. Una strada lunga. Due strade lunghe. E ora ascolta. Buongiorno signora. Buongiorno. Cosa desidera? Questo piatto quanto costa? Cinque mila lire. E queste tazzine quanto costano? La tazzina e il piatto 8.500. Grazie. E il vaso? Questo vaso 13.500. Va bene, grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno signora. Cosa le do oggi? Mi dà un po' di prosciutto, per favore? Cotto o crudo? Crudo. Quanto? Due etti. Voleva altro signora, dopo il prosciutto? Sì, burro. Che burro le do? Questo, il casalingo. Il casalingo. Altro signora? Due mozzarella. La monate o la Santa Lucia? No, queste. Va bene. Altro signora? E sei panini. Voleva altro? Dopo il pane signora? No, basta. Nient'altro? Basta così oggi. Quant'è? Il prosciutto crudo. Le mozzarella. Il pane. E il burro. Totale? Sette mila. Grazie signora. Prego. Buongiorno. Buongiorno, arrivederci. Buonasera. Buonasera. Vorrei vedere quelle scarpe in vetrina, nere. Sì, si accomodi. Grazie. Che numero calza? 38. C'è uno specchio per favore? Sì signora, prego. Grazie. Quanto costano? 50.000. Sono comode? Mi piacciono, ma sono troppo strette. La destra è troppo stretta. Al 39. No, è l'ultimo paio che abbiamo. Allora mi dispiace, ma non le prendo. Va bene. Grazie, lo stesso. Buonasera, grazie. Buonasera. C'è sempre molto lavoro qui? Abbastanza. Vengono molti stranieri? Sì, parecchi. Parlano l'italiano? Non molto. Allora lei parla altre lingue? Sì. Per esempio? Francese, inglese, tedesco. È necessario per questo lavoro? Ah, è assolutamente necessario, è molto necessario. E ora prova un po'. You'd like to buy some pottery to take back home and there is a vase you quite like in the window of a shop near the hotel. In you go. Buongiorno. Say good morning and ask how much that blue vase costs. Buongiorno. Quanto costa quel vaso blu? Quello in vetrina? Yes, the one in the window. Sì, quello in vetrina. Quello blu. Dunque, quello costa 23.000 lire. Say yes, you like it, but it's a bit expensive. Sì, mi piace, ma è un po' caro. Beh, c'è questo piccolo che costa poco. Questo costa soltanto 10.000. Say no, you don't like the color. No, non mi piace il colore. Allora c'è questo. È un pochino più caro. 12.500, ma è molto bello. Ooh, that one over there looks very nice. Ask him how much that white vase costs. Quanto costa quel vaso bianco? Quello? Eh, cara signora mia, quello lì è molto caro. Costa 30.000, quello. Tell him it's very expensive, but you like it very much indeed. È molto caro, ma mi piace moltissimo. Eh, sì. You'll take it. Lo prendo. Benissimo, signora. Lo vuole in una scatola? Yes, thank you. Sì, grazie.